Oggi siamo qui all'Istituto Facinotti insieme ai ragazzi e agli studenti per ricordare innanzitutto il sacrificio dei 19 italiani e dei 12 carabinieri in particolare che esattamente 20 anni fa persero la vita nella purtroppo famosa strage di Nassiria in Iraq e siamo qui oltre che per onorare la memoria dei nostri caduti, siamo qui per rinnovare l'impegno dell'arma in particolare, a tutela della sicurezza e delle comunità in Italia e all'estero, proprio in quelle aree di crisi dove i carabinieri operano tuttora proprio in difesa di quei paesi le cui istituzioni sono sgretolate o comunque minacciate e lo facciamo proprio per creare quella stabilità internazionale che può consentire al nostro paese di vivere in maniera più sicura e comunque alla comunità internazionale di operare in un ambiente più sicuro e che può rispondere maggiormente ai bisogni delle popolazioni. Oggi ricorderemo i caduti di Nassiria e insieme ai ragazzi vedremo anche qual è l'impegno oggi dell'arma dei carabinieri nei vari teatri di operazione all'estero. Grazie a tutti.